Grazie a tutti. 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 Ha debuttato nel romanzo quest'anno con un libro strepitoso, il titolo è Le più strepitose cadute della mia vita, edito da Mondadori, è uscito un mese e mezzo fa. Due mesi fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il titolo di questo incontro è che la letteratura genera azioni. E allora a tutti e due chiedo, oltre che emozionare e a coinvolgere i sentimenti, io credo che produca dei frutti. Se tu guardi la realtà come fanno tutti e due, come fa soprattutto Luca e poi scrivi, passi al lettore qualcosa in più che una semplice emozione che ti tocca e va via. produci qualcosa, sei responsabile di qualcosa, è così, non è così. domanda difficilissima, devo chiedere scusa per le facce che facciamo che sono dovute al sole e anche per il balbettio con cui inizierò l'intervento, forse Michele no. perché Gianluca è stato perfido, non ci ha preparati, lui è preparatissimo e invece ci fa delle domande difficili e ci mette davanti a voi praticamente in mutande. che è già un bello spettacolo. No, è un spettacolo spaventoso. Genera azioni. Io vorrei parlare, ma secondo me è un modo per risponderti, quella che genera in azione, la letteratura che genera in azione. Tu hai detto, oltre a produrre emozioni, produrre emozioni da parte della narrazione è un effetto che ha una duplice valenza. Da un lato, dichiaratamente dovrebbe essere un effetto secondario, una ricaduta, quasi un effetto non voluto. Si punta a un contenuto, si punta a trasmettere un contenuto e si produce emozione. Dall'altro, tutti siamo consapevoli del fatto che quando ci mettiamo a raccontare una storia, a meno che non siamo molto presuntuosi, stiamo dentro un mercato. Produciamo una merce che va dentro una logica di mercato, che viene venduta, comprata, promossa, proposta secondo logiche di marketing. E il mercato chiede le emozioni. Il mercato chiede le emozioni. Non c'è bisogno di fare citazioni colte per dire che la sostituzione del contenuto con l'effetto, profettizzata, analizzata 70 anni fa, è passata da Hollywood, che era l'oggetto della prima analisi di questo fenomeno, è passata ovunque, addirittura nella narrazione giornalistica. Nel fatto che non si parla più, non c'è più l'analisi nelle testatine di un giornale, ma c'è il retroscena. Non c'è più il reportage, ma c'è la storia. Si narrativizza, si narrativizza, si narrativizza, perché si trasmette un'emozione. L'emozione è quella che rende appetibile il prodotto, è quella che fa comprare e vendere. Bene, io ho la sensazione che questa trasmissione di emozioni, e adesso arrivo alle rappresentazioni taroccate del tempo, che mi pare che siano il tema che ti sta a cuore e che sta a cuore anche a me, una forma di letteratura che usando il veicolo emozionale, usando questa strategia di suscitare emozioni, si confronta in maniera, secondo me, allarmante con il tempo, e vedo che mi copri il sole, sei veramente un amico. È veramente un amico, sono commosso. O forse stavo facendo delle facce abominevoli e non ha più potuto reggermi. Allora, c'è una letteratura molto virtuosa, la letteratura di impegno civile, la letteratura dei valori, la letteratura degli scrittori civili, eroi delle virtù democratiche, che si incontrano molto spesso, sempre più spesso, sulle colonne dei giornali. Io lavoro in un giornale, quindi ho a che fare tutti i giorni con questo genere di narrazione, e che dà nobiltà alle colonne dei giornali, dà un po' più di bellezza, di appetibilità, produce emozione. Bene, questa narrativa, senza fare subito degli esempi concreti, ma credo abbia in qualche modo la tendenza oggi, dopo invece una stagione importantissima, a esagerare con l'uso delle rappresentazioni taroccate del tempo, cioè a tradurre alcune immagini della nostra collocazione nell'arco del tempo, della nostra collocazione in questo mostro che scorre, alcune immagini che diventano un po' dei feticci, che diventano dei simboli, elevate a simbolo, si confrontano con quell'altro maledetto vizio del dibattito politico di vendere e comprare simboli, non esiste più un contenuto, un progetto, esistono simboli, se fanno un grattacielo, no mie simboli, se fanno un grattacielo nella mia città, lo giustificano dicendo che è un simbolo, un nuovo simbolo, e tutte le scelte politiche di amministrazione di governo del territorio sono giustificate in base a un orizzonte simbolico che in qualche modo devono incarnare. Bene, la letteratura di virtù civili e il governo politico del territorio si incontrano su questo mercato dei simboli, in uno scambio che per entrambi è vantaggioso e virtuoso, ma che forse non lo è del tutto per il lettore, perché produce, e arrivo al nocciolo, mi pare che produca una sostituzione dei valori con la rappresentazione narrata di quei valori, c'è qualcosa di simile a quello che avviene in un museo, nel museo io non vedo più l'aratro che serve a fare i solchi nei campi, vedo un bel aratro sotto una teca, posso andarlo a vedere, non posso usare, mi fanno magari l'interazione virtuale, posso mettermi su una tastiera e ricostruire un aratro virtuale, anche a tre dimensioni, ma l'aratro per carità non lo tocco. E' così la democrazia, la libertà, la cittadinanza, la partecipazione, e la memoria, e il domani, il progresso, le nuove generazioni, il bene delle nuove generazioni. Allora, valori fortissimi, in questa ipernarrativizzazione, in questa ipertrofia della narrazione, della comunicazione, di emozioni, di sensazioni, diventano pesantissimi elementi retorici. Non c'è marketing dell'ego da parte di uno scrittore che possa rifuggire dalla proposizione di questo tipo di valori imbalsamati. Io mi richiamo alla memoria, o alla democrazia, o alla legalità, in qualche modo li nomino vanificandoli. Primo Levi diceva, proprio nell'introduzione di Sommersi e Salvati, questo libro va preso con le molle, perché si basa su una sostanza di cui diffidare, la memoria. Adesso la citazione non è letterare a memoria, appunto, non è a memoria, però lui diceva, è un libro di cui diffidare proprio perché si basa sulla memoria. La memoria è una costruzione soggettiva, è una narrazione con autore, ma l'autore, proditoriamente, nel momento in cui incontra la politica, la eleva a un valore che tutti devono condividere appena essere veramente esclusi dal consenso delle persone civili. Come si fa a dire di no alla memoria? Bisogna convenire. E lo stesso vale per le rappresentazioni del futuro, il bene delle generazioni a venire. Mi stanno cementificando una valle vicino a casa mia, con perdite economiche micidiali, e mi rappresentano questa scelta come una scelta per il bene collettivo delle generazioni future, senza senso del ridicolo, addirittura un ministro narrativizzato... Sarebbe la Valle di Susa. Sì, sto parlando dell'alta velocità. Un ministro narrativizzato e narrativizzante compare e mi dice no, ma tra il 2030 e il 2050 sarà redditivo e quelli che sono giovani adesso avranno un'Europa interconnessa. Ecco, io penso che con ogni ragione, per tanti anni dopo il 1989, abbiamo preso per i fondelli il comunismo perché aveva la pretesa di prevedere l'economia a cinque anni di distanza dall'oggi. Oggi, grazie all'ipertrofia dei narratori, la politica pretende di prevedere i flussi economici fra 30-50 anni. L'ipertrofia dei narratori imbeccati e indotti. Io credo in quella letteratura che genera azioni e non solo emozioni. Michele, può rispondere da due punti di vista, sia come scrittore, sia come editore, perché tu leggi i libri, leggi i manoscritti, i dati lo scritti, a volte. Ma tu conosci bene. Uno dei vizi degli editori è quello di non leggere le cose che pubblicheranno, però li leggo a volte. E hanno successo quando pubblicano, quando non li leggono. E' vero che il mercato, dalla letteratura, si attende l'emozione e quello che toglie, molto cinema è così, purtroppo, a volte anche molto teatro è così, puntano su un pubblico direttamente l'emozione. C'è la cosa che ti tocca e va via, escludendo da un lato il sentimento, che è qualcosa di più profondo, mi sembra, e dall'altro l'azione. Cioè, escludendo che la cosa che tu stai leggendo possa produrre in te un cambiamento di stato, di sentimento, che ti porti ad agire, a fare un passo oltre. Tu che sei da un lato, sei quello che scrive, dall'altro sei quello che pubblica. Come la vedi? Voi editori siete rivolti... Quindi sono scisso in questo momento. E voi scrittori, invece... Con una risposta borderline ti devo dare una cosa... Produrre pensiero, alla fine quello che rischia di mancare è il pensiero. Cioè, sei in un libro, non leggi che in quel libro, in quella storia, in quei personaggi, c'è un pensiero. Sono sassolini? No. Ecco, no. Bene. Allora, penso che sia molto legittimo aspettarsi, in cui ti parlo da lettore, addirittura, che l'innesco dei sentimenti, che l'innesco... Che qualsiasi reazione alla narrazione sia anche frutto di un buon prodotto. Perché no? Non succede oggi, non succede nel mercato, succede da quando si scrive. Lo diceva benissimo Luca, credo che si costruiscano delle storie per suscitare, anche in alcuni snodi particolari, e lì sta anche la grande bravura dello scrittore e del narratore, delle emozioni che possono essere più o meno confezionate, preconfezionate, attese, inattese. Da editore ti dico un'altra cosa che mi è capitata e che mi ha molto colpito. Ed è... Io come gli scolari, come i peggiori scolari, dico che ha ragione. Cioè, ripeto la sua e dico che... Sono d'accordo con lui. Però... Non mi fidare, sta per farmi nero. Esatto. No, no, però quello che mi ha colpito molto. Noi l'anno scorso abbiamo pubblicato un piccolo pamflet di un signore di 94 anni, allora adesso ne ha 95, che si chiama Stefano Essel e si chiama Indignatevi, Andignevù, il piccolo libro, che aveva il valore di una provocazione, né più né meno. Il suo scopo era quello di generare un'azione, anzi di generare una reazione. Scusa, racconti in breve la storia di chi è Essel, chi è Stefano Essel, perché la storia di quest'uomo che ha 94 anni e poi pubblica queste poche pagine... Stefano Essel è un personaggio meraviglioso che ha attraversato il Novecento come pochi altri. La cosa più buffa, se si può dire buffa, della vita di Essel, che è un uomo che è sopravvissuto, è fuggito due volte dai campi di concentramento, è stato uno dei più grandi diplomatici della seconda metà del Novecento, era un sodale di De Gaulle, era uno degli uomini che trattava con Churchill negli anni della guerra. È una parabola straordinaria. E anche il figlio di Jules Gim. Ed è il figlio di Jules Gim. Frutto del triangolo morboso come disse Aldo Grasso l'anno scorso, siccome gli stava antipatico Essel doveva trovare qualcosa che era figlio di un triangolo morboso. Però, a parte questa cosa sciocca, La vita di Essel è, per la sua autobiografia, un libro di 800 pagine. Condensate in più o meno 50, invece, le pagine di Indignatevi, c'è il pensiero di una persona che proponeva una reazione, chiedeva una reazione. E' molto singolare, così come ci si appaga della narrazione di questi narratori ormai da quotidiano, è molto singolare la reazione Essel invece della società civile in Italia, dei lettori. I più giovani, che erano il pubblico ideale, hanno recepito perfettamente la lezione e hanno reagito con delle azioni. Si sono riuniti ne hanno discusso, ne hanno fatto una leva. Non dico i coetanei di Essel, ce n'è pochi, purtroppo, ma la generazione più vicina a Essel si è indignata dell'indignazione, quindi creando la più grande inazione della storia. Fermi immobili perché non si accetta che il Papa straniero ti chieda una reazione. E qui ti ho parlato di una cosa molto diversa dalla narrazione pura, questa è saggistica. Ecco, è saggistica, però l'invettiva è proprio una cosa letteraria. Non credi che di questi libri abbiamo bisogno, di questi che certo emozionano ma producono un'azione. Ne abbiamo bisogno finché non risultano delle drammatiche fughe da fermo. Mi sembra che questo è un paese di indignati di professione, c'è un nocciolo molto duro di indignati che ha un consumo culturale enorme, spaventoso, per fortuna, io dico l'editore, ha anche la nostra salvezza. E' questo sovradosaggio di informazione che costruisce poi delle grandi verità, delle grandi comunità piene di verità che però agiscono molto poco e questo te lo racconta la storia più che contemporanea, il tempo presente. Quindi sono necessari questi autori, sono necessari perché portano nel caso di SL ma nel caso di tanti altri, subito dopo sono usciti altri grandi vecchi, lo stesso Ingrao, in quel momento è stato fatto, è stato reso oggetto di un piccolo libro con la stessa lezione contenuta, la reazione è quella dello stesso gruppo di persone su cui continuiamo a battere che sono molto informate, che reagiscono per quanto possono, la cosa molto singolare è che non si trasmette viralmente questo genere di azione, resta limitata ai 600.000 lettori di un quotidiano o delle persone che lo perfruiscono e che lo agiscono le stesse che stanno diventando quasi un partito politico in questi giorni c'è una festa che poi celebra quella cosa lì e non ti so dire se la trovo una buona notizia o meno. Poi un'altra domanda ma tu hai alzato la mano quando lui ha detto fa leva come a scuola no, non era leva era la questione dei ragazzi più giovani che si sono indignati a me colpisce in questo fenomeno come a essere mobilitati da una narrazione insomma da una scrittura siano stati proprio quelli che non hanno una rappresentazione del proprio futuro quelli che non hanno un futuro la percezione da parte dei ragazzi più giovani credo che su questo si possa essere d'accordo anche se siamo molto lontani da loro per età è sempre più diffusa è quella di non avere un futuro di non potersi progettare di non avere strumenti né materiali né culturali ma solo forse ideali per potersi progettare non avendo un futuro reagiscono in questa maniera qui tutti gli altri invece aggrappandosi a delle rappresentazioni più o meno astratte di futuro il futuro degli altri il futuro della democrazia il futuro dei buoni il futuro mio eccetera il futuro delle infrastrutture aggrappandosi a delle rappresentazioni più o meno astratte del futuro gli altri trovano un modo di trasformare il rapporto con la letteratura che incita all'azione in una forma di inazione cioè si iscrivono su facebook al club dei fan dello scrittore civile e hanno conciò risolto il loro rapporto la partecipazione apposta la democrazia è sostituita da facebook e siamo tutti contenti ho un po' questa cosa qui un paradosso che ho pensato mentre lui parlava è interessante chi ha una rappresentazione del futuro produce immobilità nel rapporto con la lettura e con la scrittura chi non ce l'ha in qualche modo si muove si agita magari goffamente per rimanere nell'esempio della Valsusa tirando e spingendo delle reti però questo mi colpisce parecchio e poi vorrei ancora dire una roba che credo che la letteratura si pone consapevolmente l'obiettivo di produrre emozioni civili sia in generale pericolosa ho sentito una volta Walter City che è uno scrittore che a me piace tanto proprio tanto in pubblico affrontare un pubblico che gli diceva sì ma lei molti dal pubblico dicono sì ma lei non ci propone nessuna speranza lei ci deve dare speranza eccolo qua la proiezione del futuro speranza è una delle proiezioni del futuro altrettanto ambigue come memoria nel passato lei non ci propone speranza ecco io penso che quello da parte quando uno scrittore qualcuno ne conosco si propone di creare speranza inganna il suo pubblico forse la funzione della scrittura narrativa in qualche modo sta più dalle parti delle emozioni negative sta più dalle parti della vivisezione come pensava Musi il non monsieur le vivisecteur era il titolo dell'uomo il titolo suo dell'uomo senza qualità l'idea è che si può la scrittura serve a sezionare la realtà ma se poi bisogna fare qualcosa bisogna smettere di farla da scrittori o da lettori bisogna porsi il problema di farla da cittadini c'è stato un dibattito alla biennale della democrazia di Torino che aveva un titolo orribile democrazia che cosa può fare uno scrittore niente niente lo scrittore non deve fare niente per la democrazia deve essere cittadino e poi agire come cittadino e come scrittore faccia lo scrittore vivisezione presente magari una cosa ti voglio chiedere in base proprio a quello che hai detto perché tu scrivi non chiedo perché uno scrittore scrive a parte che penso uno scrittore uno che scrive uno che si mette a scrivere e quindi fa un investimento per il futuro perché è una cosa che tendenzialmente pensa mentre sta scrivendo che resterà almeno un anno almeno due almeno dopo che lui è morto ma non ha un pubblico lo scrittore non ha un pubblico lo scrittore ha dei singoli lettori questa è la cosa che lo differenzia da tutti gli altri che fanno teatro anche dal giornalista anche dal giornalista perché il giornalista è un pubblico ma perché tu scrivi e non il saggio sulla frontiera addosso sugli immigrati che vengono ma perché hai scritto Piove l'insù perché scrivi la letteratura con nei suoi libri c'è un pensiero dentro non c'è soltanto l'emozione perché ero vittima di mobbing andavo in ufficio e non mi facciano fare niente davvero non lo so perché è uscita sono storie è bella è simpatica e quindi hai fatto fare un sorrisino adesso ti sarà interrogato nella tua lingua è una domanda terribile sto cercando di eluderla perché uno scrive ti basterebbe scrivere su Repubblica c'è tutta una generazione di scrittori che direbbe per urgenza no non è vero nessunissima urgenza no anzi ti confesso che non mi piace neanche tanto è anche un po' pigro sì sono pigrissimo ma no forse scrivo per non scrivere su Repubblica ecco ecco bravo adesso non so se è vero quello che dirò però lo dico se così Gianluca mi lascia in pace il problema è che quando scrivo per professione ammesso che non sia professionale l'altra parte della scrittura quando scrivo per professione scrivo in un quadro di riferimento dato che non è sempre un quadro virtuoso perché io ho la sensazione che oggi proprio per la dimensione di mercato di cui parlavamo il compito dei giornali che sono aziende che vendono prodotti cioè sono soggetti di mercato non è informare sul mondo ma è attirare inserzionisti perché lo stipendio a me me lo pagano gli inserzionisti che comprano la pubblicità su Repubblica l'inserzionista vuole che il pubblico di Repubblica si riconosca nell'immagine del mondo che i prodotti che vende propongono quindi il compito mio tendenzialmente quando scrivo su Repubblica non è raccontare un pezzo di mondo ma siccome i nostri inserzionisti sono quelli del segmento del lusso e i nostri lettori sono più o meno di sinistra il compito mio è costruire un'immagine del mondo in cui si può essere di sinistra e comprare le scarpe Prada e questo alla lunga mette un po' di fatica viene voglia di scrivere anche qualcosa di svincolato a questo orizzonte di riferimento perché per quanto tu faccia un reportage su Repubblica con tutta la voglia di andare contro pelo di scandalizzare di provocare eccetera alla fine quando quel reportage passa va in un quadro di riferimento che è molto condizionante allora ci sono delle storie che magari hai incontrato andando su Repubblica quella dei rifugiati le storie che hai incontrato che hai voglia di raccontare in un'altra maniera un po' più libera e c'è la fortuna ancora che c'è un secondo mercato che lui incarna in maniera molto virtuosa che accetta una narrazione un po' più distesa un po' più libera un po' più articolata di quella che si riesce a fare a fianco della pubblicità di Prada è una risposta molto parziale e di cui non sono assolutamente sicuro ma poi ci ritorno perché hai eluso la domanda perché hai buttato tutto la cosa su Repubblica come reazione però non ci sarà un'urgenza vedi che risolve sempre tutto e tu invece perché ti sei messo a scrivere perché per Repubblica facevo solo il collaboratore non mi hanno mai assunto quindi devo trovare qualcosa altro da fare e ho scritto no perché ma io allora non appartenendo al filone dorato degli scrittori dei narratori di impegno civile ma avendo una vocazione che è molto più anglosassone cioè che è quella dell'intrattenimento del puro intrattenimento nel senso che io darei veramente il mio regno per una risata se riesco a strapparla e la mia vocazione è un po' quella quella del senza arrivare ai mostri sacri senza arrivare a Martinemis e a quegli scrittori però un po' quella degli scrittori delle isole cioè tentare di intrattenere in un modo completo poi non eludendo i grandi temi perché per carità la scrittura è inevitabilmente quando poi parla del contemporaneo del presente è un piccolo gesto politico lo è sempre però cercando di divertire lo so è tremendo cioè dici perché devi divertire tutti così però a me piace molto proprio una cosa che sento come è un'urgenza in questo caso sì e tu con la scrittura cerchi di divertire cerco di divertirmi intanto perché è il mio tempo non solo io scrivo per dei singoli ma scrivo per me una forma di egoismo cioè uno se lo terrebbe anche a un certo punto quando è particolarmente compiaciuto e scrivo perché mi diverte e tento di intrattenere credo che ci sia una piccola grande dignità quando chiedi a delle persone di investire di spendere del denaro per te sapere avere la garanzia da parte tua che tu stia fornendo il meglio di te e che stia cedendo parte delle tue emozioni o semplicemente che tu le stia intrattenendo pago per essere intrattenuto questa è la logica orrenda del prodotto ma a volte funziona perché è così però c'è una cosa conoscendo in parte minima parte la sua storia lui è un appassionato di sport gli ha anche fatto tipo gli ha anche fatti gli sport è un appassionato di musica ha anche suonato musica aveva il papà e ha il papà che fa l'editore e ha anche lavorato nella casa editrice del papà poi invece ha fatto una sua casa editrice in tutto ciò perché sei andato poi a metterti no? perché così sembra Zelig c'è una personalità disturbato e ti sei messo a scrivere il romanzo il romanzo come protagonista uno che cade e ride e ridendo lui fa sorridere ridere gli altri perché avevo un romanzo nel cassetto come tutti pubblicherò anche il cassetto prima o poi tanto posso permettermelo da editore no perché e forse era la mia vera vocazione le altre cose si fanno sono tutti dei lavori lussuosissimi e meravigliosi cioè il lavoro è un'altra cosa però però c'entra con la vocazione allora uno si mette a scrivere e perde del tempo perché lo perde del tempo sperando di guadagnare sperando di far ridere ma non basta secondo me la speranza di far ridere la speranza di guadagnare la speranza di dire una cosa intelligente perché uno si mette stia due tre otto mesi nove mesi a cercare una storia a convivere con i suoi personaggi abitarli farsi abitare e poi fermarli in un libro c'entra qualcosa con la vocazione cioè con quella che forse inevitabilmente a parte che incombi mi sta incombendo su di me mi sento sotto pressione facciamo cambio di posto ma certamente è una vocazione te l'ho detto adesso poi cerchiamo di dare anche un senso alle parole perché vocazione sembra uno che folgorato a metà delle sue notti insonni sente questo bisogno assoluto di scrivere è una cosa che nascendo in quella famiglia io la persona a cui devo molto è il mio fu pro zio resta del buono che poi l'amore per la scrittura mi ha insegnato nel modo più completo e io che sono un uomo di mille incompiute una cosa volevo concluderla ed era questo romanzo poi adesso sono felice da questo punto di vista quindi una forma di appagamento enorme e lavorerai al secondo romanzo no no questo non è se me lo chiedo mi hai detto che ti è venuta la risposta no mi approssimo la risposta perché sei stimolante incalzandoci fai paura ma ci fai pensare questo è utile c'è un fatto che è molto antipatico parlare di sé chiedo indulgenza però ho capito una cosa perché il romanzo mi è venuto io non scrivevo romanzi facevo altro il romanzo mi è venuto perché non riuscivo a fare un saggio c'erano delle cose che avevo bisogno di dire e che nella forma della saggistica non riuscivo a dire ma proprio cose molto specifiche avevo un problema io stavo cercando di fare un'inchiesta sul golpe borghese sul golpe borghese perché avevo finalmente messo le mani sui materiali della commissione stragi sull'archivio della commissione stragi e risultava dall'archivio della commissione stragi che nel golpe borghese quello del 70 del weekend dell'immacolata del 1970 fosse coinvolto l'intero esercito non solo un pugno di pazzi fanatici ma tutti i reparti dell'esercito italiano quella notte erano schierati nelle postazioni di combattimento cioè fuori dalla dislocazione tradizionale per dire le truppe che presidiavano allora il fronte friulano erano a Sesto San Giovanni e quelle della Lombardia erano in Friulano questo avviene nelle situazioni di guerra questo era molto allarmante molto affascinante io volevo fare un'inchiesta su questa storia qua e poi ho cominciato a rivedere la mia vita familiare mio padre era un militare mio padre era un giovane militare al tempo del golpe borghese mio padre telefonò la sera prima dell'immacolata del 1970 al suo fratello rispose mia cugina che era un estremista di sinistra e mio padre le disse guarda non uscite nei prossimi due giorni state in casa per carità soprattutto tu non uscire e beh questo accidenti metteva in moto dell'altro metteva in moto qualcosa che il mio saggio non poteva catturare adesso forse la parola urgenza noi l'abbiamo sbeffeggiata ma lì c'era un'urgenza perché l'urgenza era di capire io avevo bisogno di capire di mettere una luce di capire anche per me stesso e poi forse di trovare qualcuno con cui condividere il tentativo di comprensione perché poi la storia proietta questa vicenda del golpe borghese sul licenziamento di una persona licenziata invece adesso nel momento in cui viene scritto il romanzo e potevo soltanto cercare di far rimbalzare un tipo di esperienza contro un altro tipo di esperienza per vedere che cosa ne succedeva che cosa succedeva a me per comprendere un'epoca e mi sono trovato anche con una certa serendipità a scrivere una roba diversa da quella che pensavo perché io a un certo punto ho pensato beh sto facendo i conti con mio padre con mia madre e pensavo di scrivere un libro sul femminile pensa un po' e poi invece mi hanno spiegato dopo che era un libro sugli anni 70 e come tale è passato ecco il romanzo è nato dal fatto che fornisce e anche i racconti forniscono uno strumento per scavare la realtà per interrogarla davvero per vivisezionarla che la scrittura saggistica la scrittura giornalistica il confronto politico col presente non forniscono una dimensione fondante e fondamentale perché la letteratura e i romanzi danno questa carta in più sulla lettura del mondo posso provare ancora a dire una cosa rapidamente poi cedo la scena perché è molto collegata e ho paura di dimenticarla danno questa carta in più e volevo già dire prima della domanda guarda giuro danno questa carta in più perché è la possibilità di infilare dentro te stesso in maniera onesta cioè puoi praticare l'onestà di Van Eyck nei coniugi Arnolfini si vedono questi due signori e sullo sfondo si vede uno specchio con una faccia e quella faccia lì è Van Eyck che dipinge oppure sei tu che guardi però è lui che dice guarda che quello che tu stai vedendo non è quello che stai vedendo ma è quello che io voglio farti vedere mi metto come soggetto dentro però mi metto dentro la rappresentazione e la faccio in qualche modo reagire con la mia soggettività questa possibilità di mettere la soggettività in gioco anche con uno strumento con strumenti fantastici perché io posso mettere me stesso dentro una narrazione e scavare e cercare i lati peggiori possibili di me stesso un personaggio che dice io in un romanzo verosimilmente è molto più putrido di quello che lo scrive se quello che lo scrive è una persona onesta è più cattivo è più porta all'estremo alcune potenzialità che però nel soggetto che scrive ci sono e che credo che il soggetto che scrive abbia il dovere di esplorare perché questa esplorazione reagisce in maniera fertile con il rapporto con il presente con l'epoca o con la storia e quindi muove più più possibilità più possibilità di conoscenza insomma volendo proiettare a livelli altissimi quando Flaubert disse che Madame Bovary era lui disse credo una delle indicazioni più più forti per trovare la domanda la risposta alla domanda perché si scrive stavi per prendere il microfono no stavo pensando che lui ha scritto e qui vedi c'è già la possibilità che ti dà la narrazione quella fondamentale di cambiare velocissimo in un modo talmente veloce da essere impensabile per qualsiasi tecnologia e il punto di vista lui ha scritto degli anni 70 io ho scritto di un decennio drammaticamente vuoto nella prospettiva del protagonista perché è quello stesso decennio in cui lui invece lui Luca era nei posti in cui succedevano delle cose orrende a poche centinaia di chilometri dalla mia storia che è una storia di grande vuoto è veramente una corsa da fermo in cui negli anni 90 in Italia non esistono nemmeno le bombe non esiste nemmeno quello che è successo c'è semplicemente questa enorme plastificazione della realtà è una boy band che deve arrivare a Sanremo un protagonista il suo protagonista è un trentenne è un trentenne che è una crisi di mezza età è un ventenne sono molto giovani hanno dei problemi che non sono dei problemi hanno il problema di non avere dei problemi fondamentalmente mentre a poco veramente a poca distanza succedono le cose spaventose ecco il grande dono che ti fa la narrazione la scrittura è proprio quello di poter ricostruire delle realtà anche completamente chiuse i miei personaggi ignorano quello che sta succedendo lì lo ignorano in modo molto frontale ed è chiaramente un modo di rappresentare quel momento a Milano per esempio posto disastrato e vile in quel decennio quindi sì è molto vero credo sia la più veloce in assoluto la più veloce delle tecnologie cioè resta la fantasia del narratore è meraviglioso c'è una cosa tra le tante cose interessanti che ha detto Luca questa possibilità che forse il saggio non ha forse neanche la scrittura giornalistica e non parlo degli articoli di cronaca ma parlo anche del racconto quando fai il ritratto di personaggi nel romanzo nel romanzo nella letteratura chi scrive ci si mette dentro tutto cioè proprio lui con mille maschere usandole ma ci si mette lì c'è forse più una sorta di onestà rispetto al saggista ma c'è una cosa meravigliosa che definisce il genere chi fa narrativa chi fa una cosa che si chiama gli inglesi chiamano fiction finzione è un tale vantaggio competitivo rispetto a chi deve fare saggistica perché io dichiaro le mie carte nel momento stesso in cui inizio a scrivere e ti racconto che la mia è una finzione e questo mi rende mi dà la possibilità di metterci tutto me stesso quindi di metterci più onestà e di metterci più onestà frontale e totale quello sì e questo è un atteggiamento di responsabilità anche nel tempo presente che vivi sì credo di sì cioè c'è la possibilità di mettere se stesso e le proprie potenzialità ma intendo anche quelle negative cioè tutte le direzioni possibili che la propria esperienza del mondo e di sé può prendere come reagente nel confronto con la realtà usarle come reagente poi ci sono sempre due modi di usare se stessi uno è quello narcisistico ho sempre sognato che ammirasse il mio digiuno non è il mio caso però si possono avere narcisismi anche da grassi e l'altro invece è quello di usare usare le potenzialità appunto come reagente mettersi in campo in gioco come uno degli elementi che possono costituire un quadro di comprensione del mondo una comprensione che può essere anche fantastica io non sto non vorrei farmi fraintendere non sto parlando di narrativa realista per carità io credo che ogni narrazione sia una narrazione fantastica da quando Omero per far andare avanti la narrazione ha messo gli dei il famoso Deus Ex Machina e da quel momento il meccanismo narrativo è legato a soluzioni fantastiche per tutti anche nel realismo uso me stesso come uno degli elementi fantastici che fanno e questa è una forma di onestà se appunto lascio lascio che questo questo io non diventi un ego un ego rappresentato ma che si faccia squadernare nelle mille direzioni possibili in cui il romanzo e il mondo lo provocano non so se ho fatto una supercazzola però quando uno è bella però io ci ho creduto volevo dire che uno può usare se stesso mentre nella saggistica è meglio di no alcuni barano e invece lo fanno anche nella saggistica ad esempio? no? l'ha già detto più di così se voi incominciate a pensare delle domande su questo tema anche no? diverse per due lo dico io tanto c'è un romanzo uscito pochi mesi fa di uno scrittore che andrà allo strega che è uscito per Mondatori dai tanto è molto semplice noi non lo sappiamo chi è è Piperno Piperno parla fa una rappresentazione del grande narratore civile sono cinque pagine meravigliose in cui probabilmente si libera di un enorme peso che è quello di essere compagno di avventura nella stessa casa editrice e del più grande scrittore civile di questo paese e se non avete chi è scusa? che è Roberto Saviano se non avete letto gli inseparabili capita perché non verrete puniti per questo però se vi dovesse capitare quelle cinque pagine che parlano di uno dei due protagonisti sono due fratelli gli inseparabili sono i pappagallini questi due fratelli che restano uniti ma molto lontani dopo un trauma familiare orrendo il padre muore si lascia morire nella prima parte di questo dittico adesso sembro una marchetta di Piperno non è così era per arrivare a dirvi che il lusso che si può prendere il narratore è quello di raccontare questa apparizione pubblica del santo laico di questo eroe che vive recluso e che si presenta al pubblico e lì è talmente più forte la rappresentazione dell'azione da fare spavento tutto questo messo in un romanzo sono cose che un saggio sullo stesso autore non si sarebbe mai potuto permettere assolutamente no quindi la finzione aiuta molto a spendersi anche ulteriormente la finzione aiuta molto a spendersi ulteriormente si si moltissimo io ne sono convinto adesso volevo lasciare in pace Saviano per varie ragioni iniziato tu si no no per carità ma in realtà sono tanti non è solo lui è proprio una tendenza è un modo è un modo di fare cultura in Italia e credo molto italiano non del tutto universale perché capita di andare in giro per il mondo e rimanere un modo di non fare cultura secondo me si sono d'accordo però capita di stare un mese in un altro paese e rimanere ma che strano qua c'è è Argentina qua ci sono le imprese che si recuperano da sé e vanno avanti ci sono delle nuove forme di sindacato c'è un tentativo di ripartecipare rinegoziare il rapporto con il territorio i super market si autogestiscono e riprendono a trattare con le filiere locali noi lo rappresentiamo noi abbiamo Carlin Petrini che è uno come Saviano ma invece là lo fanno e poi ti viene dubbio però qua non ci sono eroi civili non ci sono là c'è un altro rapporto con la narrazione della democrazia oltre che con la democrazia questo è abbastanza interessante dicevo volevo lasciare in pace Saviano fondamentalmente per la ragione che lui vende un milione e duecentomila copie quindi chiunque ne parli male ovviamente è in qualche modo criticabile perché può essere accusato di invidia ma il Savianismo è un fenomeno che va oltre l'uomo Saviano questo è un fenomeno della cultura o dell'incultura italiana sempre più diffuso non so più dove volevo arrivare ritornando ricordandovi se avete voglia di fare qualche domanda è il momento di prepararle io faccio le ultime due domande allora è la stessa per tutti e due mi raccontate un libro mi dite di un libro che avete molto amato e che non dico che è quello che ha deciso di farvi scegliere anche di scrivere però un libro che vi ha formato visto certo parlo ancora per 30 secondi così ci puoi ben pensare allora vai subito è un americano alla corte di Re Artù di Mark Twain so che tutti dicono Twain semplicissimo però è esattamente quello che io amo e l'ho letto ero molto piccolo ed è un libro di quelli non sono i grandi classici che ti fanno leggere a 13 anni distruggendoti l'estate e che poi sei costretto a rileggere a 60 capendo che cosa hai letto devo dire che è un libro è un romanzo dalla fruizione immediata è un viaggio nel tempo è la storia di un americano del Connecticut Connecticut Yankee nel titolo originale di Twain che viene proiettato alla corte di Re Artù e ovviamente questo americano arriva alla corte di Re Artù e dice io sono a posto perché so tutto questi non sanno ancora niente e adesso gli spiego io trovate quel meccanismo di narrazione in un film molto divertente che era non ci resta che piangere il suo problema qual è che è chiaramente ispirato a Twain in questo caso è che lui sa tutto ma non sa come farlo e quindi il dramma il dilemma dell'uomo moderno è un uomo dell'Ottocento comunque è quello di non avere nessun tipo di manualità e quindi di conoscere l'elicottero ma di non sapere come anzi no lui non lo conosceva in quel caso il treno a vapore sì però come faccio a farlo è molto divertente ovviamente la sua grande dote è quella di riuscire a integrarsi e di capire che si stava meglio quando si stava peggio in quel caso quindi di rimanere lì e la lettura di questo libro ti ha fatto diventare molto più intelligente no mi ha mi ha aiutato a capire qual era sia la mia via nelle buone letture perché poi è chiaramente nasce un filo Twain ha scritto qualsiasi cosa quindi già dai romanzi di viaggio però mi ha aiutato a capire quello che era il mio percorso forse sia da lettore che poi molto più avanti da narratore quella vena lì io so che trasgredisce le regole del gioco ma vorrei dirne tre ma c'è una ragione sono tre devo dirne sono tanti ma tre perché mi hanno fatto fare delle cose uno è Praga Magica di Ripellino perché mi ha fatto alzare il sedere a 19 anni e andare a Praga e poi tornarci e poi tornarci e poi tornarci e poi da lì ci sono state molte conseguenze però è proprio il libro che mi ha spinto all'azione e non era un libro quella è letteratura non è un romanzo ma è letteratura con un pensiero dentro è letteratura assolutamente non ha niente di civico o di civile però proprio ho dovuto partire non si poteva rimanere senza Praga dopo quel libro lì e soprattutto allora il secondo è Il buon soldato Schweik di Jaroslav Hasek che adesso è poco poco letto ma è grandissimo credo sia uno dei sette otto grandissimi romanzi mondo per mondo del novecento perché perché lungo no è la storia di uno che non vuole arrivare al fronte è una storia molto umoristica fa ridere un cumulo di barzellette sono continue barzellette di questo deficiente che per tutto il libro non si capisce quindi non si può che riconoscersi sperando di riconoscersi perché lui è un grandissimo per tutto il libro non si capisce se è un imbecille totale o se è un genio assoluto che prende in giro tutti e ogni volta che si decide per una delle due soluzioni lui fa qualcosa che fa propendere il lettore per l'altra ma intanto è ingannato il lettore perché il lettore vuole che lui arrivi al fronte il fronte è quello della prima guerra mondiale dove il mondo sta precipitando nell'idiozia criminale assoluta del ventesimo secolo e lui riesce a non arrivarci 990 pagine e lui non arriva mai a questo benedetto fronte e quando arriva comincia un'anabasi travestita lui proprio è l'esempio di quello che viene raccontato in una bellissima motivazione di punizione militare usciva di caserma rinculando fingendo di rientrare quello lì è il buon soldato che credo sia una lezione bellissima compresa nella lezione di Sherazad ti racconto un'altra storia perché domani si muore e forse se io ti racconto bene domani non mi ammazzi e se riesco a sospendere il racconto e a mettere un altro tempo narrativo di traverso io mi creo una libertà che mi permette di percorrere tempi e linee del tempo in direzioni veramente inedite e impreviste quindi ho amato tutti i romanzi digressivi da Stern Tristram Shendi a Proust tantissimo Schweick lo fa con un umorismo pazzesco e nelle sue barzellette si vede scorrere l'idiozia del secolo e Schweick con questo accumulo di barzellette racconta meglio di tutti meglio di Krauss la follia dell'umanità che precipita nel meccanismo della prima guerra mondiale il terzo libro è sarò brevissimo Gomorra Gomorra ma Gomorra è un bellissimo libro però è vero è che lui bara sull'io cioè sulla soggettività quello è vero mi prendo la responsabilità di dirlo mette se stesso nel saggio e non lo rivela tanto infatti dopo ho dovuto dire che era un romanzo ma quello era un bellissimo reportage e Mattatoio 5 di Vonnegut perché Mattatoio 5 è proprio il racconto dell'esigenza di dire quello che non si riesce a dire rapidamente Vonnegut è un tedesco americano cioè figlio di tedeschi emigrati in America si arruola nell'esercito americano nella seconda guerra mondiale tutto vero si trova a Dresda prigioniero quando c'è il più terribile bombardamento di tutta la seconda guerra mondiale tranne quelli due atomici ovviamente esce e vede l'orrore vede Dresda che non c'è più e sono i suoi che hanno ammazzato i suoi e non riesce a dirlo non riesce a dirlo sente solo questo canto di uccelli ptuit 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 che marca il non senso del suo rapporto col mondo e passa tutta la vita a cercare di raccontare Dresda e non ce la fa a un certo punto cosa fa? si fa rapire dai tralfamadoriani è bellissimo il meccanismo narrativo per riuscire a dire Dresda si fa rapire dai tralfamadoriani che sono dei mostri fatti a forma di stura lavandino con una gamba sola e una ventosa sulla testa e un occhio sulla ventosa e che hanno la caratteristica di vedere il tempo come una dimensione spaziale lo vedono tutto come noi vediamo la lunghezza la larghezza la distanza loro vedono il tempo come una cosa immobile per cui quando il protagonista dice mio Dio morirò il 16 settembre perché ha avuto una profezia il tralfamadoriano gli risponde che c'è di strano sei sempre morto il 16 settembre non cambia niente e lui facendosi rapire i tralfamadoriani rinchiudere in uno zoo sul pianeta tralfamador insieme a Miss Universo quindi non è neanche un brutto destino scoprendo che è sempre morto il 16 settembre alla fine riesce a raccontare Dresda e quello anche lì secondo me è una delle più grandi scuole di scrittura in cui ci si possa imbattere e poi a volte l'hanno preso per uno scrittore di fantascienza Vonnegut se avete le domande siamo arrivati sono le otto e mezzo stiamo per chiudere vi pregherei di farne uno o due domande perché sono due persone interessanti ecco c'è una domanda in seconda fila la cosa più complicata è parlare con la valletta che va bene il problema teme che lei tenga il microfono per circa 25 minuti esatto come a volte capita no io pensavo 22 però la cosa che vorrei capire meglio da Luca Rastello all'inizio ha contestato il ruolo della memoria e vorrei capire meglio perché per me la memoria è importante perché ci consente di capire che cosa siamo e dove vogliamo andare e penso che nella situazione attuale in cui penso al governo precedente che ha lavorato sulla negazione della memoria per costruirne un'altra allora forse quello che possiamo dire è che c'è una memoria collettiva che dobbiamo cercare di difendere che poi non sarà quella assoluta quella vera la memoria con la M maiuscola ma che comunque sarà quella che probabilmente si avvicina di più alla verità e che magari si confronta con le altre memorie proposte però negarla così brutalmente mi sembrava una cosa preoccupante no no non volevo negarla infatti volevo negare la feticizzazione della memoria la rappresentazione retorica la trasformazione della memoria in retorica se posso un piccolo episodio che per me è stato illuminante Mandelstam poeta russo dice polacco ma in realtà annesso all'Unione Sovietica nel 1930 per salvarsi da Stalin siccome era in disgrazia cercò di far vedere che era virtuoso e volle andare in Armenia che era allora una repubblica giovane in costruzione e arrivò fino al Nagorno-Karabakh che era una zona dove azeri e armeni si sono sempre combattuti in maniera molto sanguinosa e vide la città di Sushi città armena assediata e ridotta in rovine dagli azeri lo racconta in una sua prosa poetica straordinaria a me venne l'uzzo di andare nel Nagorno-Karabakh e seguire le orme di Mandelstam andai e sono andato due volte nel Nagorno-Karabakh la prima volta nel 1999 e ho trovato un'altra città che si chiama Agdam una città a zera dove c'erano 150.000 persone c'è un immenso cimitero musulmano che si vede ancora conquistata e distrutta dagli armeni nel 1994 rasa al suolo era un paesaggio di rovine impressionanti rovine alte bianche una città intera distrutta una pulizia etnica realizzata meglio che in Bosnia ci sono tornato l'anno scorso ad Agdam e per fortuna mi ricordavo la strada perché ho preso una cartina da Stepanakert che è la capitale del Nagorno-Karabakh e non c'era Agdam sulla cartina non c'era Agdam non c'era il nome però la strada è facile sono 12 km in rettilineo in discesa si fa e si arriva a Agdam e non ci sono più neanche le macerie c'è ancora qualche bulldozer che sta finendo di compattare le stoppie bruciate di una città che è stata fatta sparire interamente una città di 150.000 abitanti allora è impressionante il sistema dei cerchi concentrici della memoria la città di Agdam è stata rasa al suolo e cancellata anche nel nome e nella memoria dai militari di un esercito che rappresenta una nazione che si batte giustamente perché l'Europa recuperi la memoria di sé nella memoria dello sterminio che quella nazione ha subito gli armeni sono il popolo della memoria il primo popolo sterminato oggetto di genocidio nel novecento però il genocidio è rimosso per ragioni politiche giustamente gli armeni dicono all'Europa se voi non vi ricordate di noi vuol dire che non vi ricordate di voi non avete radici non avete fondamento bisogna riconoscere questa cosa poi però sono quelli che fanno sparire con la stessa pervicacia e violenza la città a zera di Agdam e poi lì mi è presa un'altra curiosità sono andato a Baku capitale della Zerba e ci sono i profughi di Agdam e quelli che fanno hanno fatto fuori tutti gli abitanti di un quartiere armeno di Baku e così via allora mi è venuto un pensiero attivato da una frase di Roberto Bolagno che è uno scrittore cileno ho pensato io che servizio posso fare agli abitanti di Agdam messi in questa terribile catena di memorie concentriche che stritolano la memoria di livello la memoria altrui se io potessi non posso ma ricostruire non la memoria della città di Agdam ma l'anagrafe e il catastro se io potessi dire questa casa apparteneva a Yusuf Abdu e aveva un terreno di 25 metri quadri confinante con quello di Josep Zarmanyan tre figli proprietà catastale se io potessi ricostruire l'anagrafe il catastro forse per la città di Agdam avrei fatto un servizio migliore di una rappresentazione narrata finisco subito quello che dice Bolagno è il contrario dell'oblio perché si tratta di battersi credo che io e lei siamo d'accordo sul fatto che si tratta di battere l'oblio oggi il contrario dell'oblio non è la memoria che è una narrazione con autore è una narrazione soggettiva come dice Primo Levi è un racconto che io faccio e se non mi metto dentro dicendo che è il mio racconto compie un'operazione truffaldina e credo che la retorica della memoria sia un'operazione truffaldina perché toglie io dalla memoria il contrario dell'oblio è la precisione che è un'utopia ma bisogna tendere